Ciao a tutti, come capire se vale la pena dedicare energie a una persona? Questa è la domanda che fanno molte persone, d'altra parte è una domanda giusta, nel senso che noi abbiamo la cosa più preziosa che abbiamo è il nostro tempo, perché il tempo non ci tornerà mai indietro. Se io perdo tempo, tra virgolette, dedicando energie a una persona e poi finisce tutto in fumo, fondamentalmente, quel tempo lì non mi verrà più restituito. Il nostro tempo ovviamente è limitato, uno può subire un tracollo finanziario e rifarsi di altrettanti soldi, anzi ancora di più, ma se subisci un tracollo temporale, cioè butti via letteralmente mesi, anni talvolta, e questi non ti verranno più restituiti. Tra l'altro perderai anche delle possibilità, delle opportunità, perché il tempo, le energie che tu dedichi a una persona in vano, diciamo così, è tempo che avresti potuto utilizzare, anzi sicuramente ti sarebbero capitate delle occasioni che tu ti sei perso. E talvolta passano dei treni che tu non prendi perché la tua testa sta da un'altra parte, quindi è fondamentale capire rapidamente, diciamo così, se vale la pena dedicare o meno energie a una persona. Ora, c'è un metodo molto semplice affinché tutto questo avvenga. Intanto devi tenere presente un fattore fondamentale, che più energie dedicherai a quella persona, più ti coinvolgerai. Questa è una legge, diciamo, fondamentale, importantissima. Per espletare e esplicare meglio, diciamo, questo concetto, ti suggerisco di leggere il libricino Il Piccolo Principe, quando Il Piccolo Principe parla della sua rosa. Il Piccolo Principe è una storiella, una favoletta di questo, diciamo, extraterrestre che viene sul pianeta Terra e lui sul suo pianeta ha diverse cose, tra cui una rosa che protegge dalle intemperie, di cui si prende cura, insomma. E un giorno gli fanno vedere un rosetto e gli dicono, guarda che belle rose, molto più belle della tua. E lui dice, no, va bene, sì, le rose sono belle, ma la mia rosa è la mia rosa. E la mia rosa per me è importante perché io le dedico energie. Io la proteggo, io la proteggo dalle intemperie, me ne prendo cura. E il fatto di prendersene cura che lo fa coinvolgere con la rosa. Questo succede sempre. Più energie dedichiamo a qualcuno, più ci coinvolgiamo. Più ci coinvolgiamo. Questo dobbiamo tenerlo presente perché è un fattore fondamentale. Quindi tieni presente che se tu dedichi energia a una persona, ti coinvolgerà indipendentemente dal fatto che poi questa persona non ti contraccambia. Anzi, paradossalmente, se non ti contraccambia, ti coinvolge ancora di più per un meccanismo che si chiama dissonanza cognitiva e tiene presente proprio questo fatto che la tua parte logico-razionale deve dare una giustificazione a dei fatti che magari non sono logici-razionali e quindi nel senso che se tu ti dai energia a una persona che non ti contraccambia, come dire, da un punto di vista logico, la tua parte logica per cui 2 più 2 fa 4 dovrebbe dire se è un cretino, se è una cretina. Per non arrivare a dire questo, cercherà una gabula, una giustificazione, dirà sì, ma lui però quel giorno... insomma, cercherà di elevare e di attribuire delle caratteristiche positive di sana pianta, quasi in un mondo delirante, diciamo così, in un qualcosa che non esiste. E purtroppo questo fenomeno si manifesta, si manifesta ogni volta che tu fai delle cose che non ti vengono contraccambiate in qualche modo. Quindi questa è la prima cosa che devi tenere presente. Prima di coinvolgerti, quindi devi mettere in atto dei meccanismi di difesa, devi fare un po' come fece Ulisse con le sirene. Non so se vi ricordate la storia di Ulisse con le sirene. Tutte le navi arrivavano, c'era il canto delle sirene, i marinai rimanevano ammagliati dal canto delle sirene, perdevano il controllo della barca e finivano sugli scogli. Ulisse, l'astuto Ulisse, voleva godersi il canto delle sirene, perché è bello anche innamorarsi, viversi il pathos dell'innamoramento, è comunque molto bello, però non voleva finire sugli scogli. Allora ha messo in atto i meccanismi di difesa. Intanto ha fatto tappare le orecchie ai suoi marinai, quindi a loro gli ha precluso la possibilità di viversi il pathos dell'innamoramento. E lui si è fatto legare. Si è fatto legare in modo tale che non potesse fare cose avventate. E è andato avanti e si è sentito il canto delle sirene. Cioè si è vissuto lo struggimento d'amore senza però finire sugli scogli. E questo si è vissuto le emozioni senza finire sugli scogli. Questo è molto importante riuscire a farlo. E questo è veramente un qualcosa di cui dobbiamo che dobbiamo imparare. Quindi tieni presente questo, che quando interagisci con una persona per capire se vale veramente la pena e quante energie devi dedicare, non devi dedicare troppe energie dall'inizio. Cioè se tu dedichi troppe energie rischi di coinvolgerti su meccanismi di sofferenza. Tu fai qualcosa, fai un passo verso quella persona. Faccio anche il primo passo, ma poi aspetto. Aspetto che ricevo qualcosa in cambio. Se non ricevo nulla in cambio, io e te non dedico più energie, volevo dedicarle a qualcun'altra, a qualche altra cosa. Ti lascio lì nel tuo brodo. Ti lascio bollire nel tuo brodo senza dedicarti più energie. Questo lo facciamo quotidianamente, nella vita quotidiana. Se tu vai a comprare il pane, dai un euro al panettiere e ti aspetti che ti dia una pagnotta in cambio. Se tu dai l'euro e lui non ti dà la pagnotta, va bene, hai preso una fregatura, ma il giorno dopo non ritorni dallo stesso panettiere, gli dai un altro euro e quello non ti dà di nuovo o nessuna pagnotta, perlomeno cambi il panettiere. E nelle relazioni sentimentali dobbiamo fare la stessa cosa. Se tu dai l'euro e ti aspetti qualcosa in cambio, se dai energia a una persona e ti aspetti qualcosa in cambio. Se queste energie non ti ritornano, se le energie che tu hai dato in qualche modo non ti ritornano, allora vuol dire che c'è qualcosa che non va. E allora vuol dire che io non ti darò più nulla. A quel punto lì non ti do più nulla, aspetto. E nel frattempo che aspetto vado da un altro panettiere. Vado da un altro panettiere e vedo di là come va. Ma non mi accanisco su quel panettiere lì. Perché se mi accanisco su quello rischio di perdere un sacco di soldi. E in questo caso rischio di perdere un sacco di tempo, che è ancora peggio. Perché i soldi, ripeto, se è un altro colo finanziario se ne puoi fare altrettanti senza problemi. se tu perdi del tempo invece, come dicevo prima, quello è davvero il bene più prezioso che abbiamo. Perché non ti tornerà. C'è poco da fare. Io sento persone che hanno perso anche in relazioni coniugali, no? E con una scusa e l'altra hanno vissuto male, diciamo, per tanti anni, per tanto tempo. E stando in una relazione, poi le scuse erano sempre le stesse. Adesso non mi separo perché ho i figli piccoli. Poi, oppure perché mia madre non sopporterebbe questo fatto finché c'è mia madre e non posso separarmi. Poi magari la madre non c'è più, ci sono i figli piccoli, aspetto ancora. Poi i figli crescono, cioè, ma adesso devono finire le elementari, poi dovranno finire le medie, poi dovranno finire le superiori, poi dovranno trovare un posto di lavoro, poi dovranno fare questo, poi dovranno fare quell'altro e alla fine succede che sono passati un sacco di anni e tu sei stato in una situazione di sofferenza, sempre all'interno di quella situazione di sofferenza. E allora è evidente che si innesca un meccanismo tale per cui la tua parte emotiva inizia a nutrirsi proprio della sofferenza e nel momento in cui la tua parte emotiva inizia a nutrirsi della sofferenza sei panato. Quindi, ricapitolando, tu devi fare qualche cosa, dai energia, ti piace una persona, fai energia, dai qualcosa, dimostra interesse, fai qualcosa, però poi dopo aspetta, aspetta di vedere cosa ti dà l'altra persona. Se non ti dà nulla, ti rivolgi ad altri e lei la lascia nel suo brodo. Può darsi che lasciandolo nel suo brodo, magari dando indifferenza, magari dando, come dire, rifiuto, tra virgolette, magari si coinvolge, magari le cose cambiano, ma sicuramente non perderai il tuo tempo e questa è già una grossa, è una grossa e non perderai altra opportunità di incontrare altre persone. Quindi, l'innamoramento bisogna imparare a gestirlo, non bisogna, ripeto, tornando, facendo come ha fatto Ulisse con le sirene, non lasciandosi andare a emozioni non controllate, altrimenti rischi veramente di cadere e di farti male. Bene, per questo video è tutto, lascia i tuoi commenti qua sotto. Mi raccomando, iscriviti al canale, metti un like e se ti è piaciuto condividilo con i tuoi amici. Al prossimo video, ciao!